Ma guarda un po' cosa abbiamo qui! Airpods 3? Esatto, Airpods 3! Questo è il primo cambio di design delle Airpods da quando sono uscite le Earpods. Ve le ricordate quelle col cavo? Esatto, proprio quelle. È da quel momento che il design non è mai cambiato. E questa ovviamente è la prima volta che le vedo, quindi le scopriremo assieme. E non vedo l'ora di provare questo ibrido tra le Airpods normali e le Airpods Pro che per l'occasione ho portato qui, su questo tavolo. Dovete infatti sapere una cosa, queste Airpods possono essere la mia felicità o la mia rovina perché queste, il vecchio modello, non sono le mie Airpods. Perché io le Airpods non le ho mai potute usare, quelle normali, perché mi sono sempre cadute dalle orecchie. Cioè io le prendo, le metto e semplicemente mi cascano, ma proprio mi cascano subito. Ed è un mio problema, lo so, ok? Quindi procediamo con l'unboxing e vediamo un attimino come si presentano queste Airpods 3 che vi ricordo essere appena uscite. E se le volete comprare potete trovare il link di Amazon all'acquisto qui sotto in descrizione. Quindi se vi va di darmi una mano lo trovate qui. Ed eccole qua. Oh, ok, ok, ok. Sono decisamente diverse, almeno come dimensioni rispetto a quello che pensavo. Infatti sono decisamente più piccoline rispetto alle Airpods Pro. E hanno un odore così... Non lo so, perché sanno di pera? Hanno odore di pera. Sì, decisamente sono più strette rispetto al case delle Airpods Pro. Decisamente tanto in realtà. Questa è la differenza che si nota. Queste a destra sono le Pro e queste sono le 3. Poi in confezione cos'altro abbiamo? Abbiamo il manualetto con scritto Airpods. Beh, sicuramente non ci poteva essere scritto iPhone. E non ci sono le mele. E in realtà rispetto al case di quelle normali non sono poi tanto diverse. Effettivamente pensavo fossero decisamente più grandi. In realtà siamo lì. E vediamo cosa c'è qui sotto. Perché ovviamente rispetto alle Pro non ci sono i gommini su queste Airpods 3. E quindi ci dovrebbe essere soltanto il cavo tipo. E infatti eccolo qui. Che è un normalissimo cavo USB-C. È scherzo. In realtà è USB-C Lightning. Perché ovviamente la USB-C non l'hanno messa manco qua. E siccome i 90.000 manco lo tolgo dalla confezione. La richiudiamo e passiamo a queste Airpods. Allora, la prima apertura in realtà non sono neanche troppo diverse dalle Airpods Pro. Però sono... Aiuto. Sono veramente tanto grandi. Tanto grandi. E rispetto al padiglione delle Airpods standard ho proprio paura che siano un po' troppo grandi per me. Ma una cosa che vi posso dire dall'inizio è che la differenza di lunghezza della stecchetta, diciamo, rispetto alle Airpods standard è tantissima. Questa è la differenza di lunghezza tra le Airpods standard e le nuove 3 che ho nella mia mano sinistra. E questa infatti è la differenza con le Airpods Pro. Ragazzi, vi invito a capire quale delle due sono le 3 e quali sono le Pro solo dalla lunghezza della stecchetta. Perché sono effettivamente identiche. Molto figo! Un'altra miglioria poi di queste Airpods è il lato batteria. Infatti, garantiscono fino a 30 ore di ascolto grazie alla batteria interna del case. Ma non solo, perché con una carica di soli 5 minuti garantiscono fino ad 1 ora aggiuntiva di ascolto. Poi un'altra cosa che apprezzo sempre dei prodotti Apple è che, ad esempio, quando apri le Airpods per la prima volta, arriva la notifica sull'iPhone, vuoi configurare queste Airpods nuove, eccetera, eccetera. Ma come lo sai che voglio configurarle? Bene, sono configurate, il mio iPhone è pronto, è arrivato il momento della verità, ma sapete qual è la prima cosa che ascolterò con queste Airpods? Lo sponsor di questo video! Google Books, infatti, è l'applicazione perfetta per imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. In pratica, i ragazzi dell'app selezionano i migliori libri al mondo in diverse categorie. Li analizzano uno ad uno e creano dei contenuti che vi spiegano le idee principali che i vari autori hanno voluto comunicare con i loro libri. Questi contenuti, che durano circa 15-20 minuti, li potete sia leggere in formato testuale, sia ascoltare. E la cosa bella è che potete imparare parecchio anche da questi semplici 15-20 minuti. E se il libro, invece, lo avete già letto, può essere utile per recuperare, per ripassare concetti già appresi. Oltretutto, in questo modo è possibile imparare anche in posti in cui di norma non si legge, quindi in doccia, mentre stiamo guidando, mentre stiamo camminando. Basta aprire 4Books, scegliere il tema che ci interessa e da qui iniziare ad ascoltare. Ovviamente non troverete narrativa, sono tutti libri sul marketing, economia, psicologia, crescita personale, eccetera. Ed ecco, i ragazzi di 4Books mi hanno dato la possibilità di provare l'applicazione e il servizio per un po' di tempo. Ho già ascoltato una cosa tipo 30 libri, lo state vedendo in questo momento. E di questi, alcuni di quelli che ho messo nei preferiti, li acquisterò sicuramente anche in versione integrale e cartacea. Altri invece non li acquisterò, proprio perché grazie a 4Books ho capito che quei libri non facevano per me. Inoltre, con la sezione di update, presente nell'applicazione, in 5 minuti avrete riassunte le notizie più importanti della giornata in ambito tech e business, anche qui sia in formato audio, sia in formato testuale. Non posso fare altro che invitarvi a provare 4Books anche voi. Oltretutto in descrizione troverete il mio link con il quale potrete provare 4Books gratuitamente per 7 giorni. E se deciderete di rimanere nel servizio, avrete uno sconto del 30%. Insomma, provatelo e fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando. Grazie mille a 4Books quindi per aver sponsorizzato questo video. È arrivato il momento della verità. Siete pronti? Io effettivamente non so se sono pronto e lo facciamo con questa cam, così siamo anche più vicini, ok? Le provo a mettere. Le metto una. Questo è l'orecchio, diciamo, buono. Quello che anche con le Airpods normali non le fa cascare più di tanto. Il problema è quello destro per me. Quindi mi giro ancora di più. No! Allora, allora, sto facendo qualche prova da qualche minuto con queste Airpods e vi confermo, sì, purtroppo continua a cadermi l'Airpods destra. Se sto abbastanza fermo, in realtà non cascano. Ma ad esempio, per fare call o roba del genere, continuando a parlare, piano piano scivola via. E sono consapevole del fatto che non è un problema solo mio. Perché molte altre persone hanno questo problema qui. Infatti, parecchi hanno comprato le Airpods, però proprio per questa ragione. Quindi, ahimè, l'unico consiglio che vi do per questa Airpods 3, se siete interessati all'acquisto, è provatele. Provatele per capire se a voi stanno oppure no. Perché è logico che sono più comode rispetto alle Airpods Pro. Perché le mettete su e loro entrano senza problemi, eccetera. Se vi entrano. Perché non avendo nessun tipo di gommino regolabile o roba simile, o vi van bene o non vi van bene. Vabbè, però, visto che ci siamo, proviamo il suono, no? Quindi, apriamo musica. Ovviamente loro hanno anche l'audio spaziale Dolby Atmos. Quindi è una cosa positiva. Perché prima, per provarlo sulle Airpods, bisognava andare sulle Pro. Mentre invece adesso si può fare anche sulle Airpods normali. Quindi, vediamo un po' come si sentono queste Airpods qua. Oh mio Dio! Allora, come suono, mi sembrano molto molto simili alle Airpods Pro. Ed è un complimento gigantesco, sappiatelo. Molto meglio delle Airpods normali. Ma, raga, mi sta lasciando senza parole l'audio spaziale. Intanto mi stanno cascando malissimo. Invece si sente benissimo. Sono veramente senza parole. Dalla qualità dell'audio. Cioè, è l'audio allucinante. Per il sicuro, raga, non sto fangerlando o roba simile. Sono serio. Sono serio. Mi stanno stupendo. Ovviamente adesso le dovrò provare. Certo, sempre stando così per metterle a posto. Perché mi cadono. E quindi non le potrò veramente usare per più di questi due giorni. Però, lato audio... Bomba! Bomba! Fighissime! E all'interno delle impostazioni, nel toggle rapido, c'è la possibilità sia di mettere la funzione testa fissa, quindi che utilizza semplicemente il Dolby Atmos per un audio spaziale, diciamo, sia proprio l'audio spaziale che vi permette di girare la testa e sentire l'audio che arriva o solo da una cuffietta, o solo da un'altra cuffietta, o da sopra, o da sotto. Insomma, con la sensazione un po' particolare che se non avete provato, dovete assolutamente provare. E che adesso potete provare anche sul modello base, non per forza quello con i gommini. Loro però, ovviamente, se andate sulle impostazioni, non hanno la possibilità di impostare con il tasto la cancellazione del rumore o la modalità trasparenza, proprio perché non ce l'hanno. Semplicemente non ce l'hanno. Questa, alla fine, è la grossa differenza tra queste qua e le AirPods Pro, oltre appunto al fatto di non avere i gommini, quindi essere proprio concettualmente diverse. Quindi se tenete premuta una delle due stecchette, attiva Siri, molto semplicemente. Oltretutto, sì, i tasti sono adesso sulla stecchetta, non sono più touch, diciamo, come quelli delle prime AirPods. E quindi, mi dispiace, amici motociclisti, non potrete più cambiare canzone semplicemente dando due colpi al casco. Perché lo so che lo facevate tutti. Lo so. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, fatemi sapere se avete curiosità da provare su queste AirPods 3, perché le utilizzerò per qualche giorno ancora. E noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui, sul mio canale. E ancora una volta, un saluto da Simone. Ciao! Ciao!